Bene, allora in questo piccolo video farò vedere, dato uno spazio bianco in cui non c'è nulla, come si può fare per copiare sostanzialmente del codice e degli oggetti da un altro progetto su cui siamo riusciti a fare un remix. Quindi per farla semplice io ho preso un progetto che ho copiato a caso dalla galleria, vedete che si è fatto così, e se lo voglio ricopiare solo alcuni pezzi di questo progetto, per esempio se voglio avere un pezzo di codice che mi sembra che possa servirmi, vado qua, prendo la sequenza di codice, se voglio copiarmi tutto il codice e vado all'inizio e faccio CTRL A, e quindi faccio CTRL C e mi copia poi tutto il pezzo di codice, se invece voglio soltanto un pezzettino, clicco sul pezzettino e faccio CTRL C su questo pezzettino, when left button is clicked, vado sulla mia finestra pulita, faccio CODE e qua posso cliccare sulla zona bianca e fare CTRL V, che vedete che mi ha portato un pezzo di codice eventualmente a grande piacere da una parte all'altra. Facciamo ancora di nuovo un esperimentino, prendiamo invece che solo questo blocco, prendiamo con lo shift, selezioniamo anche questi due blocchi, no? E magari un blocco intermedio, aspetta, faccio un CTRL, vabbè, adesso, aspetta, uno, niente, non si può, si selezionano consecutivamente, ok. Comunque prendiamo questi blocchi qua, facciamo come al solito CTRL C, andiamo nella mia finestra qua, facciamo CTRL V, notate che può funzionare anche recursivamente, nel senso che se mi metto qua, faccio CTRL V, mi ripete lo stesso blocco doppio, all'interno di dove sono. Questo è molto utile per evitare di dover copiare a mano delle cose da altri progetti, ma se, da stessa maniera, si possono copiare degli oggetti, esempio, se io voglio di questo schema qua, no? Voglio sostanzialmente ricopiarmi in blocco tutto questo Marble Maze, che sarebbe sostanzialmente tutto il oggetto, questo sono le singole cose, questo è tutto l'oggetto complesso, cosa faccio? Faccio, dovrebbe esserci il copio, un po' se funziona, faccio CTRL C di questo, e vediamo se me lo fa fare, è una prova, quindi facciamo, eventualmente andiamo proprio qua, dove c'è la scena, facciamo CTRL V, e vedete che mi ha sostanzialmente messo l'oggetto che c'era prima, con tutti i suoi oggetti all'interno, no? Quindi c'è per esempio questo, la pallina, i colori, insomma c'è un sacco di cose, quindi si possono riciclare tranquillamente in Cospaces, delle cose, non così facilmente come si farebbe da altre parti, però si può fare, questo si può fare anche, come ho fatto vedere anche sulle parti del Python, nel senso che se avete del codice Python, copiate non tanto il codice così, ma tutto il tabulato, e lo ricopiate dall'altra parte, però diciamo, è già una bella cosa, quindi tutto, buonasera!